benvenuti a tutti gli amici di youtube per un altro video del mio canale dopo un periodo di assenza dovuta alla mia presenza il mio impegno al fipili horror festival 2017 eccoci qua per un'altra breve recensione su un vero cult degli anni 70 the sentinel di michael winner l'importanza di questo film nel filone satanico orrorifico demonologico degli anni 70 è molto rilevante sia perché il film porta nel suo interno un cast meraviglioso dalla protagonista christina reigns che sicuramente vi innamorerete appena la vedrete sul grande schermo al marito l'odioso chris sarandon che poi vedremo anche nell'ammazza vampiri nel 1985 ma negli anni 70 va lavorata in film importanti come quel pomeriggio di un giorno da cani con al pacino ma poi un cast ricco di presenze del vecchio cinema statunitense come eli wallach martin balsam oppure diciamo la vecchia una nuova generazione che sta avanzando come quella di christopher walken jeff goldblum nel ruolo del fotografo e un ruolo finale quasi sembra buttato a caso di per tom berengher quindi l'attore che aveva fatto platoon che farà platoon scusate quindi un cast variegato eterogeneo che funziona soprattutto funzionale alla riuscita di questo horror allora michael winner era un regista prettamente legato ai polizieschi e il suo nome è sempre legato alla figura di charles bronson con cui ha fatto tantissimi film il professione assassino assassino di pietra ma soprattutto i primi tre se non vado errato i primi tre episodi del giustiziario della notte qui viene messo sotto contratto dalla produzione hollywoodiana per un horror un horror che è tratto da un romanzo che ebbe molto successo all'epoca su un romanzo che si chiama per l'appunto the sentinel e questo the sentinel tenta di innescarsi su un filone che è quello dell'horror demoniaco c'era stato l'esorcista di fried kindles nel 73 c'era stato the omen di richard donner nel 76 e questo the sentinel tenta di mettersi su quei binari ma quando come tutte diciamo quando tutti i generi vengono dati in mano a un regista che comunque ci sa fare a un romanzo il romanzo è naturalmente molto interessante il risultato che viene fuori non è mai una una copia carbone dei precedenti ma offre sempre degli spunti degli spunti notevoli ed è il caso di the sentinel in pratica the sentinel parla di questa attrice pubblicitaria attrice che lavora per spot pubblicitari sposata con chris sarandon durante diciamo il suo percorso il suo percorso lavorativo ha dei flashback del suo passato un trauma infantile giovanilistico legata alla figura del padre lei col marito hanno diciamo degli attriti di una freddezza di rapporti lei decide di andare a vivere da sola trova questo bellissimo palazzo che ha una vista sul sull'isola di manattan quindi anche una ricerca una ricerca visiva che michael winner impone molto importante su cui poi torneremo più tardi lei va su in questo palazzo e appena mette piede in questo palazzo la sua vita cambierà per sempre non vi sto a raccontare il film perché immagino che molti di voi non l'abbiano visto non è uno di quegli horror che viene passato spesso in televisione perché anche l'esorcista o di omen spesso trovano spazio su canali come raymovie ilis mentre dei sentinel forse per una questione di diritti ora non so bene il fatto però non viene quasi mai passato lei naturalmente va a vivere in questa casa e inizia a incontrare questi abitanti questi coinquilini poco poco standard e dietro questa facciata di di eccentricità si nasconde un segreto il segreto che sta dietro a tutto il film che non vi svelerò quello che vi dicevo comunque è l'importanza di michael winner di raccontare a livello visivo una scena una scena un concetto di demonio di satana di male in paragonandolo e mettendolo di fianco ad una ad una scena diciamo prettamente borghese quello che funziona quindi in questo film è l'aspetto anche visivo metropolitano anni settanta e new yorkese mettendo tutti insieme queste cose viene fuori un lavoro di tensione altissima perché tutte le scene girate in questa casa quando lei ad esempio si sveglia la notte e comincia a sentire rumori al piano di sopra quando entra nella quando conosce le due lesbiche al primo piano tutti i vari pezzettini di un puzzle che poi andranno a comporsi alla fine di questo film ma anche parlando di situazioni meno orrorifiche anche quando lei deve fare delle pose fotografiche ad esempio quella con i cani e non succede niente però ti crea una tensione tale il regista che naturalmente te sei sempre pronto a pensare che succeda qualcosa perché il film è pieno di queste trovate ci sono alti e bassi che non è che puntano al colpo di scena o allo scale jump ma proprio puntano al tuo la tua crescimento o diminuzione di tensione quindi il film funziona per questo motivo poi gli accorgimenti scenici sono spettacolari gli occhi bianchi di cui non voglio parlare e non voglio dire a chi appartengano o a chi apparterranno però gli occhi bianchi sono una trovata stupenda una trovata che poi fulci solo fulci nell'81 con l'aldilà riuscirà a maturare portare a un livello ancora più alto e più diciamo più vicino a quello che winner voleva dare però il tema di paragone molto simile tant'è che si sta parlando di the sentinel e le figure che avevano gli occhi bianchi di fulci nell'altilà erano delle sentinelle sentinelle delle porte dell'inferno quindi la storia è quella il film come quando lo vedi quando lo guardi quando lo assimili riesci a trovarci dentro polaschi riesci a trovarci dentro fridkin donner fulci e un misto di questi personaggi che sono naturalmente uno diverso dall'altro rendono questo the sentinel una vera perla nel mare anni 70 e come dicevo in precedenza questo genere di horror satanico metropolitano è un po' un genere morto un genere zombie se si può se si può chiamare così perché dopo la nona porta di roman polaschi se non sbaglio di di fine anni 90 99 2001 99 dovrebbe essere questo genere non è più stato fatto ci sono decine decine di horror che vengono prodotti prodotti durante l'anno nescono a bizzeffe ma una tipologia di horror con l'alto budget ambientato però in un in zone metropolitane in interni borghesi non si vede più da molto tempo perché gli horror ad alto budget sfruttano il discorso dell'effetto speciale mentre loro a basso budget sfruttano altri meccanismi di paura se facciamo che ne so un paragone tra i vari conjuring alto budget e i vari it follows basso budget che usano altri strumenti narrativi e cinematografici per incutere paura allo spettatore mentre un horror come questo girato prettamente in abitazioni in città non esiste più e non trova più mercato quindi genere zombie per un film assolutamente imperdibile non vi sto a dire la scena finale quando diciamo lei ritorna per l'ultima volta in questa casa dove viene assalita da una mandria di freaks scena che vi consiglio di recuperare solo per il gusto estetico di cui con cui viene portata sul grande schermo messa in scena e narrata quindi di più non so che dirvi ve lo consiglio vi consiglio di guardarvelo di gustarvelo l'unico appunto secondo me è che quell'utilizzo di musiche troppo sinfoniche non rendano un granché a livello cinematografico qui si sente che magari era ancora troppo legato agli stilemi hollywoodiani anni 60 anni 70 perché poi se basta pensare al fulci tanto per usare sempre questo termine di paragone fulci 80 81 con paura città delle morti viventi con l'aldilà grazie all'utilizzo delle musiche di frizzi il film spicca al volo verso anche la modernità qui ci sono ancora musiche sinfoniche che naturalmente non sono del solito livello di quelle di di gold smith che aveva fatto per per di omen ma sono musiche diciamo medie e non incutono un granché di terrore seppur sono comunque musiche di sottofondo gradevoli ma forse gli manca quel pizzico di di malsanità che avrebbe dato al tutto all'operazione the sentinel un 10 e lode quindi per oggi diciamo che chiudiamo qua di the sentinel ne ho parlato anche troppo io l'ho adorato spero che lo adorerete anche voi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo video ciao a tutti da thomas